Al Giri, vorremmo chiederti innanzitutto noi di Libera TV se ci presenti un po' la figura di Zipras. Chi è Zipras? Questo giovane che appunto si affaccia anche nella campagna elettorale italiana e che ha un certo seguito. Se ce lo vuoi raccontare il suo percorso. Visto che siamo in Italia e che si parla molto di giovani leader, Zipras non è sicuramente quello delle facili battute e di grandi annunci. È un simbolo delle nostre lote di resistenza e la nostra grande proposta per cambiare la Grecia, il Sud Europa e tutta l'Europa. Quella dell'austerità, quella dell'ingiustizia sociale e quella che distrugge praticamente le nostre vite. Oggi siamo in una battaglia molto dura e l'abbiamo visto anche al Consiglio europeo che non fanno un passo indietro. Sempre insistono per l'applicazione di quelle che loro chiamano riforme che praticamente è la nostra distruzione. Noi siamo a favore di tre cose molto importanti. Prima cosa è che dobbiamo cancellare questi debiti, dobbiamo fare una conferenza per il debito e vedere di applicare le stesse misure che sono applicate in Germania nel 1953 che le hanno cancellate il 98-97% del suo debito per poter riattivare la sua economia. Vogliamo l'annullamento di tutte queste misure che si chiamano pareccio di bilancio, fiscal combat, equilibrio di bilancio perché hanno trovato diversi modi di chiamare. Questa cosa assurda che praticamente distrugge tutto il nostro statato sociale. E la terza cosa molto importante è che dobbiamo fare un piano di sviluppo per una economia ecosostenibile per la creazione di nuovi posti di lavoro fissi. L'Europa è il nostro grande campo di battaglia. Vogliamo un'Europa democratica, di solidarietà e di giustizia sociale. Come viene vista in Grecia e che esperienza avete per questo progetto della lista Zipras in Italia? In Grecia saremo sicuramente il primo partito. Vinceremo le elezioni per il Parlamento europeo. Speriamo anche in Italia di avere un grandissimo successo. Già quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo, con tutto questo entusiasmo e la passione che si è creata tra la gente di sinistra, i militanti e gli attivisti delle associazioni, delle società civile, spero che avremo un buonissimo risultato elettorale. Tra l'altro quello che vediamo è anche la reazione di tantissimi altri nostri avversari che temono veramente che in Italia si crea una sinistra autonoma, una sinistra non subalterna ai progetti degli altri, che mette in evidenza tutte queste grandi sfide che dobbiamo affrontare per ricostruire i nostri paesi. Perché anche in Italia siamo praticamente in un paese che deve ricostruirsi dalle mazzerie che ha lasciato il neoliberismo. Siete preoccupati dal cambio di governo? Il governo Renzi che è da poco in carica sembra aver convinto una buona parte dell'elettorato che è euroscettico a rientrare, a votare, a non astenersi, soprattutto a votare il partito più grande, il PD. C'è preoccupazione per questo cambio di governo Renzi? A me non mi sembra che ci sono questi segnali in Italia. Lì a me mi sembra che gli italiani dovranno affrontare la realtà e la realtà del governo Renzi, la realtà del governo Leta, la realtà del governo Monti cambia poco. Perché di qui si tratta di austerità. Lui vuole fare i compiti a casa e questi compiti saranno i tagli. Ora, magari prima delle elezioni regalano qualcosa, ma l'abbiamo visto anche noi diverse volte. cercano di comprare praticamente il voto. Non dico che il vecchio sistema clientellare, però quando vieni poche settimane prima delle elezioni dire che fai un aumento dei stipendi e poi dopo prepari di fare i tagli, veramente siamo su questo. La politica che si applicerà in Europa saranno i tagli. O si cambiano questi governi, si cambia la Commissione europea, o altrimenti si cambiano solo le facce dei primi ministri. Perché la politica è la stessa. quello che abbiamo visto da Renzi, con Hollande, con Merkel, con Barrozzo diceva in italiano quello che ha raccontato Samaras, che ha raccontato Rajoy in Spagna, che ha raccontato Passos Coelho in Portogallo.